I vertici del clan, ma anche uomini d'onore riservati, sono finiti nel blitz antimafia dei carabinieri di Palermo, sette le misure cautelari su richiesta della DDA per i reati di associazioni di tipo mafioso ed essorsioni. Le indagini hanno svelato anche l'esistenza dentro la famiglia di uomini d'onore che godrebbero di una speciale tutela e verrebbero chiamati in causa soltanto in momenti di particolare criticità dell'associazione. Dal blitz emerge anche un summit di mafia in una casa nelle campagne della provincia di Caltanissetta per dirimere una controversia tra due uomini d'onore. Nell'ambito della conversazione captata si è più volte fatto esplicito richiamo all'esistenza di un codice mafioso scritto.